La linea va al telegiornale, prima però vi facciamo vedere subito delle immagini che stanno arrivando da Pisa dove alcuni studenti scontri tra la polizia e studenti nel corteo per la Palestina, i manifestanti si volevano, questo è Pisa, ma anche a Firenze stavano in direzione Consolato Americano, evidentemente volevano fare una loro manifestazione lì sotto, questa è l'immagine da Pisa che Cecchi Paone ha riconosciuto giustamente dietro. La scuola normale. La scuola normale e vi leggiamo la notizia, polizia e manifestanti di un corteo pro-Palestina si sono contrapposti in piazza Università dove era prevista la conclusione della manifestazione. Chiudiamo con queste immagini che ci arrivano in diretta da lì, grazie Valeria Rossi Albertini.